Allora ragazzi, questo è l'ultimo video che faccio su Diego. Ho visto il discorso dei funerali, della gente, dell'affetto e anche e soprattutto del grande affetto che ha ricevuto dal popolo napoletano e dalla città di Napoli. Allora, il problema grave, il problema che purtroppo tanti non hanno capito, che non capiscono Napoli, non capiscono i napoletani, non capiscono Maradona, non sanno chi è Maradona e che cosa ha rappresentato, è proprio dal fatto che Maradona non era solo un calciatore, perché fosse stato solo un calciatore, va bene, è stato un calciatore, è stato fortissimo, dal mio punto di vista è migliore al mondo, comunque per altri, uno dei migliori. Avete visto Cristiano Ronaldo come nel post abbia detto e se n'è andato uno dei migliori, perché lui si crede il migliore. Cristiano, Maradona era più forte di te, stai zitto, stai muto. Allora, Maradona ha rappresentato, al di là del fatto che era un essere umano, quindi con tutti i suoi pregi, i suoi difetti, nonché questa dramma che ha subito, del discorso della droga, che molti dovrebbero stare zitti, perché ragazzi io ho fatto per 15 anni lavori fra feste locali, Milano feste private, ne conosco di tutte e di più, quindi state zitti, perché da questo punto di vista, fra cantanti, attori, gente normale, ce ne dì, lasciamo perdere. Quindi ha sbagliato, ok, perché io l'ho sempre detto che quella è una schifezza, state lontano, però al di là di questo discorso che, cioè, pensate quanti cantanti purtroppo sono caduti vittima di queste cose, Maradona ha rappresentato un riscatto, diciamo, dei popoli del sud in generale, perché è un collegamento, vedo, fra il Sud America e anche Napoli. E al di là del fatto puramente calcistico, lui è stato sempre penalizzato perché ha attaccato i Bush, ha attaccato i Blair, ha attaccato i governi imperialisti, ha sempre attaccato i poteri forti della FIFA, non è mai stato uno political corretti, non è sempre stato schierato contro i supprusi che anche oggi subisce i popoli del Sud America, perché non sono tutti come l'ex presidente argentino neoliberista o come l'altro bel neoliberista, pappa e ciccia della cricca e degli Yankee, il signor Bolsonaro. Ci sono anche quelli che vogliono essere padroni a casa loro, che gli girano le scatole, che i grandi potentati, diciamo, dei grandi multinazionali vengono in Sud America a sfruttare, a prendersi le materie prime come hanno fatto con il colpo di Stato fatto in Cile da Pinochet, che lui era tutto bello amico di quelli su di là, importante portargli via il rame, oppure come in Bolivia che gli stanno fottendo il discorso del litio o come vorrebbero anche Venezuela portargli via tutto. No, ragazzi, lui ha sempre rappresentato un qualcosa contro questi grandi imperialisti, ha sempre combattuto contro, si è sempre schierato, si è sempre politicamente messo dalla parte dei più deboli. Lui arrivava da praticamente delle situazioni di favela, di barri, cioè arrivava a casa, arrivava che era una capanna praticamente. E c'è questo collegamento con Napoli. Napoli, popoli del Sud, comunque Napoli ha sempre sofferto comunque questo strapotere del Nord, anche dal punto di vista diciamo calcistico di allora e quindi Maradona che ha deciso e ha scelto di venire a Napoli e ha portato Napoli al di là dello scudetto perché poi fa ridere, dice la gente vinca lo scudetto, cioè l'ambre tu sei il primo, però ha rappresentato un momento di gioia, di rivalsa, di felicità, proprio nei confronti diciamo dello strapotere che allora aveva il Nord, che è ancora tutt'oggi. Maradona è un'icona, Maradona rappresenta tanto nella Napoletana, nel mondo del Napoletano, ragazzi, ed è da capire questa situazione. È più che un calciatore, ragazzi. Maradona ha rappresentato più di un calciatore e mi è piaciuta una frase che diceva Maradona quando diceva non mi fanno entrare in Giappone, però fanno entrare gli americani che gli hanno buttato due bombe atomiche. C'è molta ipocrisia. Allora Maradona, se non si fosse schierato contro l'elite globaliste, sarebbe stato a differenza di altri calciatori. Ma voi pensate solamente oggi, c'è tutta questa serie di miliardari straviziati, che sono, per quello che oggi il calcio, feci un post anche l'altro giorno dove dicevo ma c'è ancora gente che guarda questi miliardari straviziati, ma il calcio di oggi fa schifo. Cioè, tutti questi qui, tatuati, che arrivano tutti con le cuffie, che sembra che stanno andando in discoteca. Cioè, ma ragazzi, ma io mi ricordo, cioè, ma ci fossero magari allenatori come Eugenio Bersellini, il sergente di ferro che c'era dell'Inter. Avrei voluto vedere questi qui che arrivavano, queste cu. Ragazzi, il calcio di oggi fa schifo. E Maradona era il massimo esempio per quello che a me piaceva il calcio di allora e quello di oggi non lo guardo più perché mi fa cagare. Cioè, ragazzi, Maradona ha rappresentato di più che un calciatore. Maradona è un'icona. Maradona è un'icona. Maradona ha rappresentato un po' quello che ha rappresentato in America per certe fasce di popolazione Muhammad Ali. Quindi è di più che un calciatore. Al di là di tutti i difetti che ha potuto avere e mi dispiace vedere gente che in un momento in cui questo offende, parla, perché non hanno capito niente, non hanno capito niente. La gente, quando parla di Maradona, si dovrebbe sciacquare la bocca, si dovrebbe pulire la bocca rispetto a questi qui o anche calciatori del passato che erano dei molluschi, non lo so, delle meduse. Ma li vedete le interviste oggi dei calciatori? Maradona non ho con le palle. Maradona se ne fotteva di tutto, ragazzi. Maradona non ha avuto problemi a tatuarsi certe cose sul petto, certi simboli, come ha fatto Mike Tyson, ok? Che c'aveva Mao, c'aveva il CE, Robo. Cioè, ragazzi, quelli di oggi, ma fanno ridere, ma almeno lui era uno con le palle, era, da questo punto di vista. È sempre stato dalla parte del popolo, con tutti i difetti che può avere avuto. È per questo che è amato dal popolo napoletano, ragazzi. Il popolo napoletano è così, cioè, Napoli è una realtà che è fuori di testa, è fuori dalla realtà. Napoli è mille colori, cioè, allora, se uno non capisce queste cose, non potrà mai capire il perché dell'amore dei napoletani nei confronti di Maradona. Non lo potrà mai capire. Napoli ha mille difetti e mille pregi, ragazzi. Però ha capito che Maradona ha rappresentato un simbolo, un'icona dei popoli del sud che comunque sono sempre stati sfruttati dai grandi potentati. Quindi, tanto di cappello a Maradona, tanto di cappello al popolo napoletano.